Eccoci con Marco Silvestri, Marco peccato non l'amaro in bocca con il rigore nel finale di gara dove tu la prima parata l'hai fatta sul tiro di Simeone al 94esimo, quindi è surreale pareggiare una partita così Sì, è veramente un peccato, è veramente un peccato perché abbiamo fatto una partita sotto tutti i punti di vista perfetta secondo me magari potevamo chiudere la prima, quello sì, però la squadra è stata ottima oggi abbiamo giocato benissimo, abbiamo avuto tantissime occasioni è peccato perché bisognava portare a casa i tre punti oggi Ancora un pareggio, ti chiedo se però questo forse è più amaro degli altri sicuramente di più rispetto a quello di Bergamo o forse anche rispetto a quello col Bologna dove l'avevate voluta con i denti Sì, sicuramente perché questa stavamo vincendo e avevamo proprio la partita in pugno abbiamo avuto la partita in pugno dal fischio d'inizio più o meno loro hanno creato poco e niente, quindi è un pareggio molto amaro però comunque portiamo a casa un punto Ti chiedo anche, adesso pochi giorni di recupero, subito un test molto difficile contro l'Inter chiaramente, ma cosa vi portate dietro di positivo comunque nella partita di questa sera? Penso la prestazione è stata fatta benissimo Soprattutto l'atteggiamento di tutti è stato da squadra forte oggi Questo è quello che dobbiamo continuare a fare e sono sicuro che i punti arriveranno